I terremoti prima che avevano colpito l'Abruzzo, la neve, l'emergenza, la valanga, le vittime 29, 6, i marchigiani, il ricordo del capo della protezione civile Borrelli di Rigopiano a Pieve Torina. 1 miliardo e 200 milioni per scuole comuni nel piano delle opere, le cifre date da Luca Ceriscioli, il bilancio dal comitato della ricostruzione. I banditi assaltano il banco Mattapia di Ripa di Macerata in piena notte in genti danni via col bottino. La normalità presunta è la discriminazione in un videodocumentario o persone in una serata evento al Cinemose di Ancona. Buonasera e ben trovati a questa nuova edizione di ATG Marche in diretta e in contemporanea anche sulle frequenze radio di Radio Center Music 99.100, edizione del telegiornale che apriamo parlando un anno dopo della tragedia di Rigopiano a Farindola nella Pescarese. Un anno dopo, 29, le vittime 6, i marchigiani, cordoglio e vicinanza alle famiglie, è stato espresso questa mattina dal capodipartimento della protezione civile Angelo Borrelli che ha partecipato al comitato per la ricostruzione a Pieve Torina, presieduto dal commissario Paola De Micheli. L'anno scorso in queste ore c'era un particolare impegno per il sistema di protezione civile, ha ricordato, avevamo 31.000 persone assistite all'evento di Rigopiano. Ringrazio i volontari, le aree vennero colpite da un duplice evento, molti di noi lo ricordano. Da un lato le eccezionali nevicate su cui poi ci sono state le scosse di terremoto 4 di magnitudo superiori a 5 gradi della scala Richter, localizzata in Abruzzo, a distanza di qualche ora l'evento di Rigopiano. Quindi dopo la neve e poi il terremoto si è trattato, ha concluso Borrelli, di un momento di particolare impegno che il sistema ha fronteggiato. Intanto ci sono stati dei cortei, dei ricordi privati, una messa celebrata dalla vescovo di Pescara Penne. Pieve Torino, lo dicevamo, il comitato per la ricostruzione con il commissario Paola De Micheli, c'era anche Angelo Borrelli della protezione civile, c'erano i presidenti delle quattro regioni interessati dai terremoti. Facciamo il punto con Roberto Properzi. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Rigopiano ad un anno dalla terribile tragedia. Così si è aperta la riunione della cabina di regia per la ricostruzione post-sisma, svoltasi in un luogo simbolo, il centro storico ferito e silenzioso di Pieve Torina nella biblioteca comunale rimasta miracolosamente intatta. I presidenti di Marche Umbria, gli assessori di Lazio e Abruzzo, insieme a Borrelli, protezione civile nazionale e Paola De Micheli hanno approvato gli elenchi delle opere pubbliche con l'ordinanza che consente ai nuovi soggetti attuatori di attivare le gare con le procedure accelerate del decreto 148. Gli elenchi comprendono scuole, municipi, caserme e un altro elenco che sarà collegato all'ordinanza delle procedure per le diocesi comprende anche 250 milioni di chiese. Il totale dell'approvazione delle opere pubbliche di oggi è di circa 1 miliardo e 35 milioni e inoltre abbiamo attivato un percorso a tappe serrate per riuscire ad approvare il piano sul dissesto idrogeologico particolarmente necessario in questa ricostruzione, considerato che il terremoto è avvenuto in zone idrologicamente molto sensibili, per riuscire ad approvarlo entro il mese di febbraio. Per quanto riguarda il privato, la De Micheli afferma che da quando è stato concertato il testo dell'ordinanza 46 a dicembre e dall'entrata in vigore della stessa metà gennaio le cose sono cambiate. Da una parte sono aumentate il numero delle domande fatte da parte dei cittadini e questo è importante perché ha un segnale di fiducia rispetto al fatto che la ricostruzione parta. Dall'altra parte abbiamo avuto un incremento del numero delle autorizzazioni di ricostruzione quindi significa che le procedure accelerate introdotte nell'ordinanza della ricostruzione privata incominciano ad essere efficaci. Presente come detto il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli che ha snocciolato alcuni numeri fotografando ad oggi la popolazione presa in carico. 51.400 persone che sono assistite dal sistema di protezione civile, di queste oltre 41.000 sono con il contributo di autonoma sistemazione e di queste oltre 28.000 sono solo nella regione Marche. Poi abbiamo 4.000 persone nelle soluzioni abitative di emergenza che poi siamo andati a consegnare nel corso del tempo. 5.362 sono le popolazioni che sono ospitate negli alberghi o anche nei moduli collettivi nei campi container che avevamo allestito l'anno scorso di questi tempi. 760 persone che sono gli allevatori che sono ospitate nei moduli diciamo rurali, nei cosiddetti MAPRE. Per quanto riguarda la situazione SAE, in continua evoluzione Borrelli cerca di dare tempi certi. 3.662 soluzioni abitative di emergenza di fabbisogno e quindi ordinate, ne abbiamo consegnate 2.286 ad oggi, pari al 63%. Noi contiamo di arrivare ovviamente al 74% entro la fine di gennaio e quindi a più di 2.600 soluzioni abitative consegnate e entro la fine di febbraio ovviamente a 3.385 soluzioni abitative di emergenza che mediamente rappresentano il 92,40%. A traduzione per le marche di tutte queste cifre, un miliardo e 200 milioni nel piano delle opere pubbliche serviranno soprattutto per scuole comuni, un piano che diventa bilancio per questa regione, 655 i milioni di euro spesi finora per l'emergenza. Sentiamo. Un miliardo di euro in opere pubbliche, solo le marche. Con le approvazioni di oggi per quanto riguarda chiese e la seconda parte dell'edilizia residenziale andiamo a un miliardo 231 milioni. Un miliardo 231 milioni di opere già finanziate. Luca Ceriscioli snocciola le cifre alla base dell'ordinanza 49 dopo il comitato di Pieve Torina elencando i destinatari 860 opere nel complesso a partire dalle scuole. 220 scuole tutte finanziate, i municipi tranne ovviamente quelli in zona rossa tutti finanziati, le opere che riguardano la sanità, tutte le strutture sanitarie tutte finanziate, le caserme che sono presidi importanti nei territori, tutti finanziati e gli alloggi popolari, le case ERAP, tutte finanziate. Le cifre per il futuro diventano bilancio a partire dai sopralluoghi. Ricordo che sono stati oltre 105 mila i sopralluoghi complessivi richiesti, oltre 103 mila quelli effettuati. Quindi significa che da qui alla fine del mese si completeranno anche gli ultimi restanti. Quindi la ricostruzione privata. 1.440 progetti presentati, 28 milioni di euro quelli già assegnati. Il governatore cita l'ordinanza 46, chi farà i lavori non dovrà anticipare nulla e potrà muoversi per trovare l'impresa. Procedura approvata, 46 come il numero del più veloce Valentino Rossi. È un appello ai 40 mila cittadini marchigiani interessati secondo una stima. Ci aspettiamo sia, come sta già accadendo, un ulteriore incremento in termini di richieste, di domande. Sono potenzialmente circa 40 mila le dichiarazioni di inagibilità, quindi domande che possono arrivare da questo punto di vista e con la semplificazione la possibilità per tutti di agire con maggiore celerità. La terra trema ancora, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'INGV in provincia di Macerata da quando si apprente. L'epicentro è stato nella comune di Muccia, scossa di minore entità. Si sono susseguite nella mattinata, sempre nella maceratese. La cronaca stava lavorando su una capannone industriale quando, per cause da accertare precipitato facendo un volo di circa 8 metri, paura per un operaio edile di 35 anni che è stato ricoverato all'ospedale Murri in prognosi riservata. L'incidente si è verificato nella zona industriale di Amandola. San Benedetto, una bimba di appena un anno, figlia di una coppia di marocchini, è stata ricoverata d'urgenza nell'ambulanza all'ospedale pediatrico Saresi dopo aver riportato ferite alla testa per una caduta avvenuta in casa questa mattina. Sempre per la cronaca, andiamo a Macerata, assalto alla distributore Kuwait di Villa Potenza. Il blitz attorno alle 3.30 della scorsa notte. Sentiamo Giulia Boschi. Un camion usato come ariete lanciato contro la colonina per il pagamento del self-service e poi un secondo furgone su cui scappare con il bontino nel cuore della notte. È quanto accaduto intorno alle 3.30 del mattino di oggi al distributore Kuwait di Villa Potenza Macerata in via Peranzoni, assaltato da un gruppo di ladri. Gli uomini avrebbero agito in una manciata di minuti sfondando con il camion rubato una ditta di Monte Cassiano prima la colonina per il pagamento del self-service e poi gli altri distributori di carburante. I malviventi avrebbero sottratto una cifra che si aggira intorno ai 6.000 euro bottino che avrebbe potuto essere molto più consistente se la colonina per il pagamento del self non fosse stata svuotata il giorno prima. In genti sono stati invece i danni causati dagli impatti del camion che oltre al distributore ha danneggiato anche la pensilina. Fortunatamente si è evitata la fuoriuscita di carburanti dalla colonina di Velta grazie all'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata che hanno messo in sicurezza l'area. Sul furto indaga la polizia grazie anche alle immagini riprese dalla telecamera di un'abitazione vicina al distributore in cui si vede passare alle 3.36 il secondo furgone dei malviventi utilizzato per scappare anch'esso rubato. Cambiamo pagina legalità negli appalti accordo tra provincia di Ancona e guardia di finanza. L'attività del 2017 viene fotografata con 25 milioni di euro di gare d'appalto tramite la stazione unica della provincia di Ancona con 10 milioni per la provincia stessa, Entezoppo con la riforma mancata ma ripartita quest'anno con la gestione di strade e scuole e 14 milioni di euro di gare per i comuni. Per una gestione nella direzione della tutela della legalità arriva l'accordo con la guardia di finanza per le gare di affidamento che prevede tra l'altro di rendere noti in tempi tempestivi i dati dei partecipanti ai bandi da parte degli uffici competenti dell'ente, dunque efficacia e trasparenza come linee guida. Possiamo essere di supporto ai comuni e garantire che le aziende abbiano un beneficio, le aziende del territorio che hanno un senso di legalità anche loro a essere avvantaggiate. In sostanza come funziona? Funziona che tramite i partecipanti alle gare d'appalto la guardia di finanza decide che controlli fare e come operare. Come vengono eseguiti i controlli? I controlli riguarderanno i dati sensibili sulle gare che verranno acquisite automaticamente dalla provincia e ci consentiranno di approfondire gli aspetti economici, patrimoniali relativi alle imprese che si propongono nella realizzazione delle opere. Questo consentirà ad esempio di individuare incapacità patrimoniali o strutturali e consentire delle scelte più mirate da parte dell'organo giudicante. Per sventare quindi quali rischi? I rischi complessivamente sono quelli che in genere si ritrovano nelle gare d'appalto, ma in particolare in questo caso è aumentare la capacità e l'efficienza degli enti pubblici nell'orientare la spesa verso sistemi di produzione coerenti con le esigenze che il lavoro pubblico si propone di realizzare. Ad Ancona polemiche per l'arrivo del circo con gli animali, arriva in città ma non è regola con l'autorizzazione per allestire spettacoli sul suolo pubblico e si valuta lo stop da parte del Comune di Ancona. Al vaglio degli uffici comunali di competenza la richiesta fatta dalla compagnia Circenza accampatasi al parcheggio dello stadio del Conero che attende di sapere se dovrà andarsene oppure no. Sentiamo al telefono l'assessore Emma Capogrossi. Il nuovo regolamento comunale è approvato lo scorso anno e prevede che almeno il minimo è in termini di presentazione di 60 giorni proprio perché tutta la documentazione richiesta e che quindi va tra l'altro verificata richiede dei tempi piuttosto lunghi per cui la richiesta è arrivata il 12 gennaio e il circo si è attendato senza alcuna autorizzazione da parte del Comune. Quindi se ne dovranno andare probabilmente? Adesso domani verranno date tutte le disposizioni necessarie, comunque sia non c'è alcuna autorizzazione. Quindi oltre a quello anche so che hanno degli animali? Guardi, il regolamento stabilisce tutta una serie di cose, c'è una tempistica, ci sono diversi documenti da presentare sullo stato di salute degli animali, sulle condizioni in cui sono tenuti, che è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Per cui quello è, adesso l'esame dettagliato lo stanno facendo gli uffici ma comunque sia, del badisco, non c'è nessuna autorizzazione e a noi preme far rispettare il regolamento. La normalità, cambiamo ancora pagina, presunta è la discriminazione in un videodocumentario o persona in una serata evento al Cinemuse di Ancona. Vediamo. Non credo nella normalità. Non riesco a dire quello è normale. Secondo me non c'è una normalità universale. Non è una cosa positiva per me la normalità. Partendo dal presupposto che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è sentito escluso o discriminato. Qual è l'input iniziale alla base del documentario? Cercare di abbattere i grossi pregiudizi che ancora ci sono nella nostra società a proposito di queste tematiche. La realtà è sempre più complessa di come la si immagina. Figurarsi la normalità, se normale sia dibattere di che cosa e di chi lo siano oppure no. Ecco Persona, documentario scritto e diretto da Marco Montenovi con Alice Marinelli. Un viaggio nei pregiudizi giocato sulla luce, coloro che si raccontano a viso aperto e sulle ombre, chi mostra solo la voce, testimonianza di essere diversi. È il caso di tre transessuali contraltare dei cosiddetti normali che tali evidentemente non lo sono. Molti trovano inusuale il fatto che le ragazze parlino con uno sfondo totalmente nero, cioè non si vedono. Si sentono le loro voci che raccontano appunto questi episodi e in realtà il motivo per cui lo facciamo è molto semplice. Ogni giorno si vedono rappresentate da televisione, social o qualsiasi cosa, come una categoria, come se, diciamo, come dire, vengono presentate in quel modo lì. Noi non vogliamo presentarle come niente, semplicemente vogliamo raccontare e dar loro una voce. Il nero è fatto apposta perché speriamo che lo spettatore in questo modo non applichi nessun tipo di pregiudizio. Il videodocumentario in collaborazione con numerose associazioni e con l'ombudsman delle Marche sarà presentato in una serata evento domenica 21 gennaio alla Cinemuse di Ancona Prima Nazionale. Domenica alle 20.30 al Teatro delle Muse sarà aperto a tutti e assolutamente gratuito. Ora la linea passa a Marche Flash subito dopo la pagina sportiva. State con noi. Domenica alle 20.30 al Teatro delle Museo di Ancona Domenica alle 20.30 al Teatro delle Museo di Ancona Domenica alle 20.30 al Teatro delle Museo di Ancona Domenica alle 20.30 al Teatro delle Museo di Ancona Domenica alle 20.30 al Teatro delle Museo di Ancona Domenica alle 20.30 al Teatro delle Museo di Ancona Domenica alle 20.30 al Teatro delle Museo di Ancona Domenica alle 20.30 al Teatro delle Museo di Ancona